Noi abbiamo iniziato benissimo, ancora una volta al terzo o quarto minuto abbiamo trovato il gol del vantaggio, poi abbiamo avuto la possibilità di fare il secondo, lo abbiamo fatto e ci siamo innervositi secondo me già nel primo tempo prendendo delle munizioni stupide che poi hanno un po' condizionato anche la gestione della partita, quindi dobbiamo essere bravi, così come abbiamo fatto un grande approccio alla gara a mantenere la giusta lucidità per tutta la partita. Anche nel secondo tempo potevamo chiuderla e non l'abbiamo fatto, poi purtroppo c'è stato l'episodio del rigore del Nola che ha riaperto la partita perché il calcio è questo, è fatto di episodi e gli andamenti della partita possono cambiare all'improvviso, quindi psicologicamente il Nola in quel momento ha ripreso l'entusiasmo che noi non gli dovevamo dare e quindi abbiamo sofferto fino alla fine, però era importante vincere su un campo difficile dove il Nola aveva ottenuto due vittorie, è un campo particolare perché è un campo piccolo, non semplice da giocare, quindi comunque anche se dobbiamo continuare a lavorare come è sempre, però era fondamentale vincere. Sì, ma più che il disegno tattico, perché poi siamo anche tornati un po' a giocare con lo stesso disegno tattico anche se c'era un difensore grande in più, però Leo aveva preso questa munizione, aveva fatto un fallo dove rischiava anche di prendere il secondo e quindi ho dovuto cambiarlo. Più che cambiarlo con un esterno in quel momento ho anche pensato l'ammunizione di Colaci perché essendo un ragazzo giovane che comunque sta facendo bene, però era munito e poteva essere puntato in quella zona di campo dalla bravura di Padulano e altri giocatori esterni e veloci che il Nola ha, quindi serviva più che arrivassero i nostri esterni che sono giocatori molto offensivi, che arrivasse anche lo stesso Colella a dare una mano in quella posizione là. Diciamo che noi da quella parte lì non abbiamo poi sofferto più, c'è stato solo l'episodio di rigore che poi ha riaperto un po' la gara, però la gestione della partita è stata condizionata da questo, ecco perché dico che noi dobbiamo essere bravi a mantenere i nervi saldi senza farci prendere da nessun tipo di nervosismo soprattutto quando siamo in vantaggio di due gol. Io preferisco non vederla ora, so che i ragazzi magari possono essere contenti di questo, che fa piacere, però come ho detto sempre a loro, noi dobbiamo pensare in grande ma guardare in piccolo, questo è quello che gli ho detto ai ragazzi nella presentazione della gara, guardare quella che era sta partita e adesso tutte le nostre attenzioni vanno rivolte alla partita di Fasano che sarà un'altra battaglia dal punto di vista sportivo. Ma non è tanto il gesto personale, era più che altro per dare un aiuto alla squadra, noi subiamo pochi tiri e quindi gli unici pochi che prendiamo magari dare anche un supporto noi portieri, quindi dispiace più per quello perché poi comunque l'altra squadra va per inerzia, si mette un po' in salita a portare a casa i tre punti che abbiamo meritato fin dai primi minuti, però siamo stati comunque compatti dopo il gol, non abbiamo rischiato niente e va bene così, siamo contenti. Ma in realtà penso che comunque per le occasioni create si poteva chiudere prima la partita, anche prima del rigore che intorno al ventesimo se non sbaglio. Abbiamo avuto anche altre due occasioni, due contropiedi, più alti tre contropiedi il primo tempo. Quindi insomma è stato un episodio sicuramente che li ha rimessi in corso, poi anche aiutati dal pubblico. Per inerzia, come ho già detto prima, sono venuti più volte magari in aria con i cross, però non ho mai percepito oltre al rigore, oltre al singolo episodio, pericolo. Quindi bisogna eliminare magari questi piccoli errori che magari possono compromettere poi una palla sporca, una palla rimessa lì come al 45esimo insomma. Così si stavano tutti più tranquilli, assolutamente.